Cristo mi hanno colpito, Mayday, Mayday, io ho il rottore di coda fuori uso, ho controllo. Cosa ne dici? Cavolo, è emozionante per la miseria. No, no, le onde, le onde! Fantastico! Guarda quella, si fragia nei due sensi, guarda! Guarda, sono onde alte due metri! Vieni qui, Les! Che succede tranquillamente? A terra! Questa zona è troppo pericolosa, signore, dovrete fare il surf da un'altra parte. Lei che diavolo sa del surf, Maggiore? Lei viene dal maledetto New Jersey. Ehi, venite qui, venite qui! Ehi! Cambiatevi! Vuole dire adesso, signore! Voglio vedere se quelle onde valgono la pena. Andatevi a cambiare! Ancora pericoloso laggiù, signore. Vuoi fare il surf, soldato? Signore, sì. Va bene allora, perché o fai il surf o combatti. E' chiaro? E ora muoveteli! Ci apro io! E' portato la tavola per Les! Non possiamo fare un cazzo finché non arriva la barca! Les! Scommetto che non vedi l'ora di andare in acqua! Come? Non vedi come si frangono nei due sensi? Un pizio può virare a destra e una a sinistra, simultaneamente! Che ne dici, eh? Beh, io credo che dovremmo aspettare l'alta marea, signore! Ehi, Les, vieni qui, guarda! A terra! La marea non viene per altre sei ore! Voglio aspettare qui ancora, signore? Ehi, capo! Capo, guarda! Guarda laggiù! Ok, ragazzi, smettetela di nascondermi! Forza! Far mettere un po', resta di cazzo! Per la miseria! Non crede sia un po' rischioso mettersi a giocare! Se io dico che è sicuro fare il surf su questa spiaggia, significa che non c'è pericolo, capitano! Io non ho paura di fare il surf in questo posto, e quindi farò il surf in questo cazzo di posto! Dove il radio telefono, sono andato! Colomba 4, qui è Granduca 6! Porca puttana, bombardate quella fila di alberi! Granduca 6 ricevuto, Colomba 1-3 state pronti! E che non ci rimanga più niente! Paco 1-2, Colomba 1-3 affermativo, serve un po' di napalm laggiù alla linea degli alberi, potete virare e scodellarglielo? Bene, 1-3 li buttiamo noi, qual è il bersaglio? Bisogna far fuori un mortaio nascosto laggiù fra gli alberi, ricevuto, arriviamo! Bene, scaricate tutto quello che avete e portate gli aerei in linea d'arri! Tra un secondo tutta questa zona sarà ripulita e pronta per noi, non vi preoccupate! Granduca 6, qui in Colomba 1-3, i gente sono già in ruta d'attacco, bombarderanno fra 30 secondi, tenete i vostri lontani e a testa bassa, ci sarà il cilipone! Lo senti? Lo senti l'odore? Cosa? Andiamo! Napalm, figliolo! Non c'è nient'altro al mondo che odora così! Volete lì! Volete lì! Volete lì! Mi piace l'odore del Napalm di mattina! Una volta una collina la bombardammo per 12 ore, è finita l'azione e andai lì sotto! Non ci trovammo più nessuno, neanche un lurido cadavere di Vieta! Ma quell'odore! Si sentiva quell'odore di benzina! Tutta la collina! Odorava di... di vittoria! Prima o poi questa guerra finirà! di... di... Grazie a tutti.